Ciao a tutti, vi siete mai chiesti che differenza fa tra 1688 e Arribaba? Allora, oggi parliamo di questo. 1688 è rivolto a un pubblico esclusivamente cinese, a differenza di Arribaba che è rivolto a un pubblico internazionale. Quindi vuol dire, modalità di svolgimento dell'attività è B2B e B2C. Nel caso di 1688 B2B è cinese verso cinese e nel caso di Arribaba è tutto il mondo verso tutto il mondo. Questa è la prima differenza che troviamo. Inoltre su 1688 di solito troviamo i trend del momento del mercato cinese, che a differenza di quello di Arribaba troviamo, se facciamo le cerche, troviamo trend del mercato internazionale. I certificazioni proposti e sottostante alle normative vigenti commerciali, nel caso di 1688 è rivolto al mercato nazionale, quello cinese. Nel caso di Arribaba è rivolto al mercato internazionale, quindi certificazione ha un stand maggiore rispetto a quello cinese, quello nazionale. Cosa ci conviene cercare su 1688 a questo punto, se è rivolto soltanto al mercato cinese? In questo caso vi consiglio di cercare i trend del mercato cinese per poi avere una previsione di quello che ci sarà nel mercato internazionale, perché di solito i commercianti cinesi propongono i loro prodotti su 1688 per vedere come si comporta le vendite, le statistiche e i guadagni. Solo dopo di questo provano a lanciare sul mercato internazionale. Quindi chi vuole avere possibilità di essere in contatto con dei prodotti altamente richiesti in una fase successiva, sarebbe opportuno di provare a cercare su 1688 e di monitorare i trend di quel momento. Ecco, in questo video abbiamo parlato le differenze che c'è tra 1688 e Arribaba, quello grubare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!